Lo sport si ferma, non tutto chiaramente, ma in larga parte. Come sappiamo infatti il DPCM del 18 ottobre scorso ha posto tutta una serie di nuove limitazioni che riguardano le attività, tra cui appunto le attività sportive. Facendo salvi, leggo testualmente, solo gli eventi e le competizioni che riguardano sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale. Ecco, per cui possiamo passare alla prossima slide. Non si possono più praticare, fino al 13 novembre, che è la data indicata appunto dal DPCM, tutti gli sport di carattere ludico amatoriale, quindi appunto il calcetto, il basket o il beachvolley tra gli amici, ma anche gli sport di contatto che appunto non sono riconosciuti a livello nazionale e regionale. Ecco, ma dietro a questa frase c'è diciamo un mondo che adesso proviamo a descrivervi. Significa che per ogni disciplina bisogna valutare l'ambito territoriale del comitato che organizza l'evento, che deve essere quindi nazionale o regionale. Vediamo qualche esempio nella prossima slide che riguardano appunto gli sport più conosciuti e più praticati, a partire dal calcio. Vanno avanti le leghe che sono riconosciute dalla FIGC e quindi serie A, serie B, serie C, serie D e prima categoria. Si fermano i campionati di seconda e di terza categoria. Pallavolo, vanno avanti i campionati di serie A1, A2, A3, B, C e D. Basket, infine, vanno avanti i campionati di serie A, A2 e B maschile e i campionati di serie A1 e A2 femminili. Quindi, diciamo, il resto si ferma, come possiamo vedere anche nella prossima slide, si fermano appunto le competizioni, i campionati, le manifestazioni, ma vanno avanti gli allenamenti purché siano praticati a livello individuale. Quindi, questo ne consegue uno stop anche per quanto riguarda le scuole e la formazione dei giovani e dei giovanissimi allo sport. E questo appunto rende anche l'idea, se vogliamo fare un commento, della razza del legislatore che, almeno per il momento, ha preferito tutelare gli interessi economici che girano dietro appunto al mondo dello sport, penalizzando però, e questo è l'altro lato della medaglia, tutti appunto quei giovani e quei giovanissimi che si affacciano alle discipline sportive che costituiscono effettivamente l'anima e il cuore del mondo sportivo. Ecco, ma concludiamo questa pillola con alcune note di colore che in questi giorni così appunto drammatici chiaramente possono un po' aiutare. L'assist ci arriva proprio dall'elenco dei 130 sport di contatto che ha legato al DPCM del 13 ottobre, quindi precedente a quello del 18 ottobre, che appunto non si possono più praticare. E ne abbiamo scelti cinque in particolare, cinque sport singolari o dei quali comunque non conoscevamo l'esistenza, ne abbiamo scelti cinque che vi elenco. I rugby subacqueo, ecco, ha poco a che fare con i rugby, si gioca sott'acqua ovviamente con pinne, maschera e bottaglio, una palla piena d'acqua che deve appunto restare sul fondo, quindi non deve venire a galla, e due canestre appoggiati sul fondo e l'obiettivo è quello di fare canestro. Quindi cosa c'entri con i rugby non è molto chiaro, ma fatto sta che fino al 13 novembre i campionati di rugby subacqueo sono bloccati. Il secondo sport che rimane bloccato è la palla pugno, che si compone di diverse categorie. Palla E, palla elastica, pallone col bracciale, pantalera, ecco, tutti i campionati di palla pugno sono fermi. Abbiamo poi il sambo, che invece è un'arte marziale di origine russa e che veniva praticata per l'addestramento dei soldati dell'armata rossa. Ecco, quindi chi ha come modello proprio il soldato dell'armata rossa come allenamento non potrà praticare questo sport fino al 13 novembre. Abbiamo poi il sepak takrau, che abbiamo scelto più che altro per il nome quasi impronunciabile. In realtà è una disciplina che arriva dal sud-est asiatico e che è abbastanza semplice, è simile alla pallavolo, ma si gioca con i piedi. Da ultimo abbiamo selezionato il tiro alla fune, che appunto anche i campionati di tiro alla fune sono fermi fino al 13 novembre, non tanto perché sia uno sport poco conosciuto, perché in realtà è conosciutissimo, ma perché qui appunto la topica sta nel fatto che i tecnici della Presidenza del Consiglio hanno inserito come sottocategoria del tiro alla fune la monta da lavoro in tutte le sue peculiarità, quindi la monta maremmana, gimcana, sincronizzata e via dicendo. Quindi appunto il problema è cosa centri la monta da lavoro che si pratica su cavallo con uno sport di contatto, non c'entra nulla e soprattutto anche con il tiro alla fune. Quindi risultato levata di scudi della federazione che organizza le manifestazioni della monta da lavoro contro appunto il governo e pare che abbiano ottenuto in risposta l'assicurazione che la monta da lavoro verrà eliminata tra i 130 sport di contatto e qui appunto avrebbe da dire casca l'asino o meglio il cavallo. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.